Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti per questa iniziativa, questa partecipazione e questo invito che abbiamo raccolto come agenzia, in particolare poi rappresento qui il direttore dell'agenzia che non è potuto essere presente tra di voi e quindi mi ha delegato in questo intervento. E un grazie in particolare a Nino Gentile, io lo chiamo Nino perché abbiamo chiamato Nino per aver curato questo volume, questo prezioso manuale delle giovani marmotte che si occupano dell'evasione fiscale nell'ambito dei comuni. Grazie. 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 Una ricordata nasce dal 73 e dall'articolo 44 e che nel corso degli anni appunto è evoluto. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 frazionario quello che conta quando semmai poi la popolazione amministrata sicuramente condivido la tesi di Ferri un attimo fa è esposta circa la necessità che i piccoli comuni vadano in qualche modo supportati in termini consoziali, in termini di unione dei comuni per poter rendere una funzione proficua su questo campo, credo tuttavia che dobbiamo in qualche modo immaginare per noi che ci occupiamo di questo tema a livello soprattutto centrale, noi come agenzia delle entrate, ma lì per le lanci a livello nazionale per la capacità esponenziale degli enti locali di incominciare a progettare il futuro e progettare il futuro probabilmente vuol dire anche incominciare ad immaginare modelli organizzativi diversificati in ragione della dimensione dei comuni, perché ovviamente non è la stessa cosa la partecipazione del comune di Roma, ovviamente dico una banalità alla certità dell'accertamento tributario rispetto a un piccolo comune, quindi dobbiamo immaginare il superamento di un modello unico, verso una modulazione dei modelli in funzione della dimensione dei comuni stessi e ragione delle caratteristiche socio-economiche dei comuni stessi altrimenti probabilmente non riusciamo a essere noi capaci di essere leva di crescita di questa partecipazione ma aggiungo che in qualche modo il tema dell'accertamento tributario è un tema che oggi sta avendo una qualche riflessione anche al nostro interno da un modello, come dire tradizionale dell'esercizio della coercizione che è tipico dell'atto amministrativo dell'accertamento noi stiamo evolvendo e accompagnando questa attività tradizionale che resta fondamentale e importante nell'azione amministrativa e altre attività che sono in qualche modo finalizzate a rafforzare l'adempimento spontaneo e quindi sostanzialmente l'induzione alla compliance e quindi sostanzialmente in qualche modo la capacità per il contribuente di far emergere le basi importanti e qui da questo punto di vista mi domando se probabilmente in termini ovviamente evolutivi anche del quadro giuridico non dobbiamo incominciare a immaginare una funzione dei comuni anche in questa direzione ed anzi io credo che da questo punto di vista probabilmente potrebbe darsi un valore aggiunto esponenzialmente più e meno partendo innanzitutto dalla capacità conoscitiva del territorio noi siamo un'amministrazione che ovviamente essendo un'amministrazione nazionale ed avendo come tutte le amministrazioni pubbliche una serie di limitazioni nel proprio budget come forse in parte anche logico e giusto in una condizione di finanza pubblica non certamente felicissima siamo in qualche modo costretti insomma sia per efficientamento delle strutture sia per l'economizzazione delle strutture a dare tra in termini di distribuzione territoriale e noi abbiamo già l'esercizio di attività di controllo più rilevante che è a livello regionale o a livello provinciale a seconda della dimensione del contribuente ma insomma comunque la nostra presenza sul territorio è una presenza che vede 357 e quindi capiamo benissimo quanta possa essere la nostra capilarità e capiamo benissimo invece di quanto la capilarità dei comuni sia un elemento fondamentale dal punto di vista non solo informativo ma in qualche modo anche capace di indurre nei comportamenti perché questo è l'elemento fondamentale intorno ai quali dobbiamo incominciare e immaginare le nuove sinergie tra amministrazione statale e singoli comuni come in qualche modo l'operazione che noi stiamo intraprendendo di messa a disposizione dei contribuenti di una massa di elementi informativi sulla loro posizione fiscale capace di indurre modificazioni dei comportamenti possa essere accompagnata da un'azione concreta dell'ente locale che nella vicinanza comune possa determinare e accompagnare questa modificazione di comportamenti perché altrimenti insomma come dire no poi la stratonino le dimensioni quantitative e anche qualitative dell'evasione fiscale che sono caratterizzate sia da una dimensione intorno ai 100 miliardi a seconda della metodica utilizzata che poi si distribuiscono in modi differenziati a seconda della tipologia dei contribuenti ma non sono aggredibili fondamentalmente da qualsiasi amministrazione fiscale la più efficiente possibile e di come in verità l'elemento fondante di un salto di qualità derivi dalla cooperazione interamministrativa cooperazione interamministrativa che è fatta dalle persone che si parlano e come dico le testimonianze date in questa sala delle persone che si sono parlate sono un elemento importante del valore aggiunto di questo colloquio non solo appunto i casi che ha citato il dottor Gentile ma anche i casi che sono stati citati dal comune di Bergamo a me sono parsi particolarmente interessanti e stimolanti dal mondo disse la riflessione ma al di là di questo aspetto credo che ci sia un patrimonio informativo in mano a ciascuno di noi che probabilmente noi non siamo ancora in grado di interoperare in maniera efficiente anche qui la riflessione che faceva il collega di Bergamo con riferimento alla necessità di una flussibilità delle basi dati flessibilità che probabilmente è anche più agevole in una struttura locale rispetto a un'amministrazione centrale sia per la dimensione degli archivi informativi di cui dispone una grafita diputaria sia per come dire per la maggiore strutturazione che l'amministrazione statuale ha rispetto a un ente locale e di come quindi una maggiore flessibilità nella gestione delle basi dati dell'interoperabilità tra le basi dati locali e le basi dati centrali attraverso poi lo scambio informazioni con punto fisco possa essere un reale valore aggiunto in termini di valorizzazione delle informazioni o per meglio dire della messa a fattore comune delle varie informazioni che singolarmente prese hanno scasso valore questo allora è forse l'orizzonte o se volete lo scenario futuro intorno al quale lavoravo mi sottrago come dire da commentare quello che autorevoli i relatori prima di me hanno commentato così dettagliatamente che forse non vale la pena chiusare ancora sul tema insomma è testimoniata è testimoniata la nostra giudizio estremamente positivo dell'operazione della partecipazione dei comuni di accertamento giudizio estremamente positivo delle esperienze migliori che sono state fatte ma anche in qualche modo come dire si è citato il caso di Bari sono stato direttore regionale un caso all'opposto che sembra negativo ma in realtà poi se andiamo a scavare bene nei meandri dell'utilizzo della base informativa da parte dei comuni di Bari scopriamo che in realtà quel patrimonio informativo il comuni di Bari l'ha usato proficuamente per una serie di attività sue pro e anche questo è un valore che probabilmente non appare da quelle statistiche ma che in qualche modo va valorizzato allora il punto delicato è proprio quello di e l'applicazione che poi è stata messa a disposizione gratuitamente i comuni lo fa mettere a disposizione di tutti i comuni le best practices attraverso schede metodologiche che in qualche modo rappresentano in maniera in anche parte più dettagliata rispetto a quello che fa che è riportato nel testo per ovvi motivi di sinteticità editoriale è elemento che forse però va accompagnato a una divulgazione perché in realtà io sono abbastanza convinto che molte cose sono anche poco conosciute e di come quindi la nostra come dire capacità di permeabilità dei singoli comuni è significativamente importante attraverso le direzioni regionali attraverso le direzioni provinciali ma non basta ovviamente non riusciamo ad arrivare a tutti i comuni ma riusciamo ad arrivarci se è una misura in cui insieme a Lanci e insieme all'IFEL riusciamo a costruire una rete capace informativa capace di dare al comune la tangibilità dell'utilizzabilità dell'utilizzabilità dell'informazione e aggiungo in realtà quello su cui forse dobbiamo lavorare per questo avevo citato il caso di Bari è di come il patrimonio informativo che si è messo a disposizione dei comuni per la partecipazione dei comuni in accertamento tributario in realtà è un patrimonio informativo che può essere proficuamente utilizzato per lo sviluppo di attività di controllo dei tributi propri comuni e di come quindi come dire insomma i patrimoni informativi possono essere utilizzati a più fin lo diceva Nino Gentile nel suo intervento la partecipazione del comune non serve solo per accertare il tributario reale serve anche per in qualche modo valorizzare le risorse proprie e poi insomma come dire possiamo su questo percorso e degli urecontenti immaginari percorsi anche più intensi io sono tra quelli convinti che il terreno della riduzione dei fenomeni di evasione insomma dei tributi erariali ma non solo anche dei tributi locali perché abbiamo fenomeni di evasione anche nei tributi locali anche se forse abbiamo una capacità di stima dell'aggregato inferiore rispetto a quello che si è riusciti a fare a livello nazionale per ovvi motivi di conoscenza di maggiore di basi informative aggregate è un terreno particolarmente florido in cui possiamo svolgere un ruolo attivo insomma si potrebbe una vulgata dire quelli che in qualche modo si occupano dell'evasione fiscale difficilmente resteranno disoccupati nel corso dei prossimi mesi e anni quello che diventa importante in realtà è capire che l'evasione fiscale e la sottrazione all'imposizione è una riduzione delle risorse per lo Stato per i comuni per la realizzazione dei servizi pubblici essenziali fondamentali per soprattutto ridurre le divergenze tra i cittadini rafforzare i servizi sociali significa assicurare i soggetti più debbi della comunità bene a cui non potrebbero bene servizi a cui non potrebbero accedere e in un periodo storico in cui queste divergenze in qualche modo crescono probabilmente queste funzioni e queste risorse sono ancora più necessarie e ancora più necessario credo che debba essere sia la nostra azione sia la nostra cooperazione grazie grazie dottor Polito penso che le prospettive di collaborazione siano molto forti credo anche che forse Andrea richiamava anche la possibilità di risorse a supporto per attività formative per integrazione delle banche dati anche per provenienza comunitaria forse dovremmo anche insieme cercare di orientare una parte di queste risorse verso attività come dire che consolidano la nostra la capacità di cooperazione istituzionale e il rendimento con questo tipo delle istituzioni vediamo un po' di almeno suggerire di utilizzare queste risorse al meglio bene grazie Leoluca Orlando non è riuscito a raggiungerci essere scusa e quindi passiamo al comune di Roma abbiamo qua l'assessore Mazzillo buonasera a tutti e grazie a chi comunque ha avuto anche la capacità di organizzare questo incontro e poi il contributo editoriale che assolutamente ho avuto la fortuna di leggere precedentemente quindi di averne la disponibilità già da un po' di tempo e quindi ho potuto veramente apprezzare il livello e il contributo che oggi l'amministrazione può ricevere dall'IFEL e dai tecnici quindi che si sono dedicati profondamente a costruire questo volume anche perché è un volume che si basa molto sull'esperienza ed è forse il punto di partenza che serve in questo momento amministrazioni che si avvicinano a una tematica così delicata perché quello che si perde sempre di vista è che in realtà l'imposizione fiscale e la compartecipazione all'azione che l'amministrazione compie attraverso tutte le sue articolazioni necessariamente deve prendere in considerazione il mutamento che la società ma anche l'economia subisce pertanto rimanere anche aggiornati e trovarsi sempre in una situazione di rincorrere un po' anche quelle che sono le novità aiuta tantissimo gli amministratori a almeno a fare delle polisi che siano più adeguate rispetto al territorio ecco quindi accolgo molto l'invito che proveniva da Galeone sul fatto di cominciare a cogliere anche quelli che sono i flussi di risorse che vengono anche da fuori perché ricordiamoci che gli accertamenti riguardano anche l'utilizzo di fondi comunitari ci sono frodi anche in quel campo c'è il problema classico delle residenze estere no? Qui ci sono tanti fenomeni che interessano ormai una globalità di fenomeni e di persone per essere più precisi quindi l'incrocio dei dati è essenziale sotto questo punto di vista allora quando racconto la mia esperienza così diciamo cerco di dare anche un minimo di colore a questo incontro che ovviamente ci sono tecnici molto più qualificati dal mio punto di vista per parlare su questi temi ecco dico semplicemente che ho cercato leggendo appunto il manuale di capire come il comune di Roma si stava comportando in questo settore e ho scoperto ma le slide proiettate ne parlavano lo dicevano chiaramente il comune di Roma nonostante la mole le dimensioni e quello che possiamo definire la consistenza demografica ecco in realtà siamo tra gli ultimi posti abbiamo fatto segnalazioni nel 2015 18 segnalazioni che hanno portato un introito di circa mezzo milione di euro quindi stiamo parlando veramente di nulla il comune non partecipa al comune di Roma non ha trovato comunque non ha pensato alla precedente amministrazione che questo strumento poteva essere qualcosa di più allora in questa valutazione che è stata fatta anche da chi ha redatto il volume ho trovato invece degli spunti importanti il primo è quello di equità oggi ricordiamoci sempre che avere una collaborazione all'interno della gestione di alcuni fenomeni come per esempio la sicurezza se oggi le forze e l'ordine non si parlano non riusciamo veramente a presidere il territorio la stessa cosa vale anche per il fisco oggi l'agenzia delle entrate chiaramente opera come braccio operativo dell'amministrazione finanziaria per recuperare le risorse che oggi occorrono allo Stato e il comune compartecipa in parte di questa azione compartecipa anche nel recuperare le risorse ecco l'addizionale ad esempio è un classico caso in cui il comune i comuni gli antilocali e lo Stato collaborano in un percorso di accertamento o comunque recupero delle somme ecco lavorare in questa direzione vuol dire non soltanto guardare soltanto al mero spicciolo che serve al comune ma serve anche per creare quella compliance quella attenzione alla legalità alla trasparenza che tanto si cerca perché oggi un esercizio commerciale trova molta competizione molta concorrenza ad esempio da chi non rispetta le regole quindi il famoso abusivismo cominciare a lavorare in questo senso l'Atari ad esempio è un'imposta che in molti casi viene vasa soprattutto perché non sussiste non esiste una vera e qui si parlava dei sistemi capacità di intercettare quelli che sono gli immobili fantasma quelle che sono le assenze di dichiarazione appunto di determinati soprattutto di edifici o comunque di locali dedicati al commercio quindi da questo punto di vista c'è l'essenziale volontà da parte dell'amministrazione di operare in un'attività di emersione dei contribuenti quindi ricordiamoci che collaborare con l'agenzia in questo senso vuol dire anche recuperare l'addizionale ad esempio i temi diciamo specifici sono chiaramente quelli dell'anagrafe per esempio quindi la parte demografica la parte del commercio dell'urbanistica abbiamo sicuramente cominciato a lavorare su questo i sistemi su Roma Capitale si stanno adeguando il lavoro è comunque complicato quindi non è semplice perché si sono affastellate più più attività e soprattutto più sistemi quindi trovare poi una chiave che colleghi tutti o comunque una capacità di smantellare qualcosa per metterne un'altra che mette in rete tutte queste informazioni non è fatto semplice ecco sicuramente Roma Capitale rappresenta un cliente molto importante se possiamo chiamarlo così o comunque parla molto importante dell'agenzia e su questo noi riteniamo che una vera collaborazione con la direzione regionale possa fare la differenza sia perché Roma Capitale processa centinaia di migliaia di dati ogni anno dati che possono essere sicuramente interessanti per più soggetti in particolare per l'amministrazione finanziaria e nello stesso momento consentono anche allo stesso comune di recuperare altre informazioni se nasce questa partnership utile per accertare il più possibile quelle imposte che anche hanno una ricaduta all'interno dell'amministrazione quindi questo sicuramente è un tema importante l'altro tema su quale penso che oltretutto la sede è appropriata e il senato cominciare a parlare di semplificazione perché abbiamo la necessità di avere una semplificazione sugli adempimenti una semplificazione normativa perché anche chi vuole in qualche modo odempiere o comunque rispettare quelle che sono gli obblighi tributari ha difficoltà a interpretare o comunque ad adottare delle prassi o delle procedure che siano corrette lo dimostra il dottor Polito sarà d'accordo con me anche perché io provengo da Equitalia quindi insomma ne ho abbastanza esperienza di questi temi ci sono anche grossi margini di sgravi che vengono fatti dalle amministrazioni quindi vuol dire che qualcosa io non dico che sono gli uffici che lavorano male però probabilmente c'è un problema anche di applicazione di alcune procedure e di alcune norme quindi sicuramente bisogna partire anche su questo e soprattutto bisogna creare una cultura della legalità e del fisco che parte dal fatto che e qui mi sembra che l'abbiamo ripetuto un po' tutti insomma la compliance fiscale l'opportunità di cominciare a fare norme semplici però applicabili e che siano anche riconoscibili perché è chiaro che oggi la presenza dell'amministrazione quindi in questo caso anche dell'amministrazione Capitolina nel supportare i contribuenti nei loro adempimenti può essere un valore aggiunto che si può dare non soltanto in ambito quindi locale ma anche in ambito dell'erario insomma dell'imposta erariale su questo credo che una collaborazione stretta possa servire e sono tre secondo me le linee e qui finisco sulle quali bisogna operare e sulle quali personalmente cercherò di darmi da fare con l'aiuto anche dei presenti e IFE l'ottretutto già si è resa disponibile in questo senso e svelo subito qual è il tema allora la prima cosa riguarda ovviamente la capacità operativa abbiamo una scarsa capacità operativa perché molto spesso gli uffici sono impegnati a dover gestire mole di adempimenti vari quindi da qui la semplificazione operare nella semplificazione vuol dire liberare risorse all'interno dell'amministrazione che possano lavorare nell'interesse appunto dell'accertamento e quindi anche della riscossione del recupero di risorse ma anche del supporto che dicevamo la seconda cosa è la formazione oggi siccome le norme scambiano le esigenze si modificano ma anche le persone abbiamo anche un turnover molto forte nel senso molte persone che vanno in pensione che vengono sostituite però da personale non altrettanto qualificato ecco nei comuni magari c'è perché c'è un'anzianità che va avanti però poi dopo deve essere sostituita da persone in grado di comprendere interpretare i fenomeni ecco da qui c'è la formazione come altro tema e so che IFER su questo si adopera attivamente e l'ultima cosa è un discorso di investimento sulla quale ci bisogna muoversi ovvero il tema dell'inadeguatezza dei sistemi informativi quindi delle banche dati o delle procedure che vengono fornite ecco anche qui per arrivare all'incrocio di quei famosi database per fare le segnalazioni anche su questo è importante sicuramente il lavoro fatto con punto fisco e tutta l'attività che si sta svolgendo va in quella direzione ecco amministrazioni importanti come per esempio quella che in questo momento sto rappresentando secondo me dovrebbero avere anche l'opportunità e l'occasione di poter dialogare in maniera un pochettino più forte con con l'amministrazione in questo caso finanziaria per trovare dei percorsi perché siccome i dati sono tanti e quindi sono dei flussi informativi notevoli bisogna trovare diciamo dei punti di approdo che funzionino e che possano ricevere bene le informazioni poi ovviamente ci sarà l'impegno anche da parte dell'amministrazione di fare in modo di fornire questi dati nel modo migliore che possiamo ecco quindi questo secondo me sono il sono il fronte sul quale oggi questa amministrazione è chiamata operare anche perché la tassazione lo sappiamo tutti non si può aumentare perché probabilmente siamo arrivati oltre a quelle che sono le considerazioni e le valutazioni fatte dall'economista Laffer dobbiamo cominciare un attimino a recuperare inefficienza e sicuramente anche recuperare risorse che ci sono perché sappiamo che c'è anche chi lucra sull'inefficienza dell'amministrazione e questo deve essere un fenomeno che deve essere interrotto anzi contrastato ampiamente grazie grazie assessore Mazzito mi sembra che si vadano individuando quali sono anche le priorità di collaborazione guardando questo fenomeno e dal punto di vista dei comuni e dal punto di vista dell'agenzia continuiamo questo lavoro con Venezia Venezia il Veneto non va male non è fra i primissimi ma potrebbe andare meglio e di molto raccontateci un po' la vostra esperienza intanto ringrazio anch'io Ifer Anci e anche il Senato di ospitarci in questo in questo convegno la partecipazione dei comuni al contrasto dell'evasione fiscale rappresenta una valida opportunità per gli enti locali di riutilizzare gli strumenti di indagine fiscale già adoperati nell'attività di controllo dei tributi locali al fine di estenderne l'ambito i tributi erariali Il legislatore ha da sempre avvertito l'importanza del ruolo degli enti locali nella lotta all'evasione e il convergimento dei comuni ha costituito e costituisce tuttora un obiettivo di fondo peraltro ampiamente condiviso in ragione della vicinanza degli enti locali a molte forme di capacità economica al punto da prevedere la partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi statali potesse passare attraverso l'attribuzione agli stessi di parte del gettito recuperato La legge istitutiva della specifica funzione attribuita ai comuni è basata su un'intuizione che ha un fondamento logico i comuni conoscono bene il territorio di loro competenza e pertanto possono dare un contributo efficace a contrastare l'evasione fiscale contributiva che per le sue dimensioni come annualmente esposto da istituzioni nazionali e internazionali rappresenta ancora una caratteristica patologica della società italiana sulla base della loro specifica conoscenza del territorio viene data ai comuni la facoltà di collaborare all'accertamento di nuove basi imponibili come già evidenziato dalle relazioni di chi mi ha preceduto va sottolineato che la partecipazione dei comuni all'accertamento erariale costituisce un ambito ricco di opportunità per tutti non solo per gli effetti che un più incisivo contrasto all'evasione comporta in termini di maggiore equità fiscale ma anche in considerazione della progressiva diminuzione dei trasferimenti radiali che inevitabilmente spinge i comuni stessi a una più intensa ed efficace azione di recupero dei tributi e prima vedevamo i grafici anche che rappresentavano questo considerata la completezza e la ricchezza delle relazioni fin qui svolte io darò al mio intervento due obiettivi quello di contribuire alla trattazione di alcuni aspetti specifici sui quali è sicuramente utile una riflessione congiunta al fine di incentivare la partecipazione all'accertamento e poi come diceva chi mi ha introdotto illustrare le iniziative della città di Venezia in materia di accertamento erariale più in generale di un tema di contrasto all'evasione in relazione al primo punto vorrei tentare di aggiungere qualche riflessione in merito alla constatazione già messa sul tavolo che la partecipazione ai comuni sia all'attualità è un fenomeno di grande interesse che lascia intravedere enormi potenzialità ma che deve ancora entrare nella fase di pieno di spiegamento i numeri dell'accertamento erariale infatti dimostrano in materia indiscutibile che se da un lato il fronte profila scenari di proficuità indiscutibili dall'altro è pur vero che il fenomeno è a macchia e leopardo nel senso che è possibile riscontrare comportamenti completamente diversi in diverse porzioni del territorio a volte anche contigo in linea di principio tutti sono concordi nel ritenere che l'evasione fiscale e contributiva sia un male per la società i riflessi patologici di tale situazione costringono i contribuenti onesti a pagare più del dovuto creano distorsioni iniquole nella gestione delle attività commerciali rendono difficile ridurre il prelievo fiscale a livelli soggettivamente più sostenibili spesso nascondono situazioni ben oltre confine della legalità eppure malgrado ciò sono solo alcune e ben delimitate le aree territoriali in cui i contribuenti sono assoggettati a un'osservazione più puntuale e specifica conseguente all'azione sinergica di Stato e Comune i dati finora resi noti li abbiamo visti prima sui risultati della collaborazione fra Comune e Stato con finalità anti-evasive evidenziano e confermano anno dopo anno che il contributo di due sole regioni la Lombardia e l'Emilia e Romagna incidono per il 68% sul totale del gettito recuperato la mia regione dicevamo ad esempio se si considerano i dati recentemente pubblicati al Ministero dell'Interno sui trasferimenti ai comuni della quota delle maggiori somme riscoste si colloca abbastanza bene nel programma nazionale nel senso che pur lontana dalle due regioni leader appartiene a una fascia intermedia di quattro regioni Piemonte Luguria Toscana e appunto Veneto che da anni raggiungono risultati di rilievo ma non stupefacenti l'impressione complessiva che si ha è senz'altro che occorre superare e risolvere tutti i fattori potenzialmente critici propri e specifici delle realtà comunali che nei fatti ostacolano il successo della collaborazione dei fattori culturali circa un ruolo improprio che i comuni andrebbero a giocare nei confronti dei propri cittadini francamente mi sembra di poter dire che l'argomento per cui l'invio delle segnalazioni possa avere un riflesso elettorale penalizzante stia progressivamente perdendo di consistenza e si è davvero limitato se non azzerato poi ci sono le capacità tecniche di conoscenza fino ai prerequisiti infrastrutturali che spesso caratterizzano le realtà più piccole e meno attrezzate detto questo però la chiave di volta sembra essere quella di identificare il territorio virtuoso di indagarlo per comprenderne le ragioni concreti dei casi di collaborazione fattiva verificare le caratteristiche dei canali di comunicazione tra comuni e agenzie alle entrate e viceversa da agenzie alle entrate a comuni e costruire un modello sulla base delle caratteristiche in termini di disponibilità di reciprocità di approccio di requisiti strutturali e infrastrutturali di capacità di dialogo si tratta allora di studiare i casi di successo di identificare i territori virtuosi di modellizzarne le caratteristiche di ipotizzarne il trasferimento il riuso in altre aree in altri territori ho usato la parola riuso che anche oggi è stata citata più volte in maniera non casuale questa parola infatti mi dà l'opportunità di passare al secondo degli aspetti che vorrei trattare con il mio discorso e cioè le azioni intraprese dalla mia città la prima esperienza riguarda il riuso dei software già realizzati nell'ambito di una sperimentazione avviata proprio con Ipel nell'abito del progetto semplifisco a cui un capitolo del bel libro curato da gentile da gentile è interamente dedicato la seconda riguarda un'operazione specifica diversa da quella che stiamo analizzando e abbiamo analizzato oggi messa in atto nel Comune di Venezia tra il 2005 e il 2016 di cui darò alcuni particolari tra poco la prima esperienza dicevo è la sperimentazione che è stata avviata il mese scorso dove stiamo verificando l'importanza di disporre di un sistema di aggregazione dati evoluta sia in grado di analizzare le basi dati locali di cui la città di Venezia dispone in rapporto alle basi dati nazionali pure accessibili e che riesca a valle di tale analisi a fornire in maniera massiva casistica di potenziale evasione di tributi locali ed erariali permettendo di incrementare e ottimizzare le produzioni di informative utili per l'accertamento e la riscossione stiamo toccando con mano che disponiamo di un patrimonio informativo immenso unico costituito da oltre 40 basi dati interne ed esterne che integrate nel sistema permettono di ricostituire la storia delle relazioni delle persone fisiche delle società dell'associazione di ogni soggetto passivo e Dottor Gentili ha fatto un'ampia panoramica di quelli che possono essere i casi che ci troviamo ad affrontare nel caso dei tributi statali la sperimentazione in atto è orientata all'automazione dei percorsi di indagine seguendo la logica dell'analisi massiva e fornendo uno strumento concreto per la predisposizione delle segnalazioni qualificate che come comune potremo trasmettere all'agenzia dell'entrata e alla guardia di finanza proprio nei prossimi giorni verificheremo i primi risultati delle operazioni di incrocio delle informazioni e effettueremo una prima analisi sempre in una prospettiva massiva sull'opportunità di concentrare l'attenzione su un ambito piuttosto che un altro nel fare ciò ci preoccuperemo di raccordarci con l'agenzia dell'entrata a livello centrale attraverso ANCI e IFEL e che ci supportano in questa sperimentazione che a livello regionale e provinciale coinvolgendo le articolazioni territoriali della stessa agenzia speriamo in questo modo che la città di Venezia possa fare meglio e grazie a uno spiccabile effetto traino costituire modello del territorio in modo a migliorare le performance dell'intero Veneto riguardo alla seconda esperienza senza che se ne abbia l'agenzia all'entrata perché l'abbiamo fatta con la guardia di finanza segnalo l'importanza di una collaborazione che abbiamo avuto tra uffici comunali polizia municipale e guardie finanze di Venezia sotto la direzione del commentante provinciale generale Alberto Reda che ha portato nel maggio scorso alla presentazione dell'operazione Venice Journey un'indagine iniziata nell'estate del 2015 che sta proseguendo volta a controllare il settore extralberghiero e delle affittanze turistiche a Venezia che ha portato attraverso l'utilizzo di un programma appositamente creato dalla Guardia di Finanza di Venezia denominato Domus Network all'incrocio e verifica dei dati in possesso dall'amministrazione comunale con i dati internet delle varie offerte sul mercato per scovare potenziali evasori di imposte dirette IVA e tributi locali come l'imposto ai soggiorni tale operazione ha portato all'evidenza di circa 1300 offerte abusive su 4000 disponibili ne sono stati accertati redditi non dichiarati per 3 milioni di euro e mancato pagamento dell'imposto di soggiorno per 120.000 euro il dato positivo è che nei primi nove mesi del 2016 il Comune di Venezia ha avuto un incremento di circa 800.000 euro dell'imposto ai soggiorni con 873 nuove dichiarazioni indici che fanno capire come l'attività di contrasto all'evasione ha anche un effetto detrattivo che porta a regolarizzare da parte degli operatori posizioni mai dichiarate prima concludo anche il mio intervento prima si diceva lo dicevo io ma lo diceva anche il dottor Gentili di questa possibile paura penalizzante di essere un comune virtuoso diciamo così nelle segnalazioni qualificanti o in operazioni come quelle che abbiamo fatto noi perché questo potrebbe avere appunto un effetto penalizzante nei dati elettorali anche io penso che questo sia del tutto ormai fuori luogo per le giunte e per i sindaci che attuano questo tipo di ragionamenti hanno a me personalmente al nostro sindaco al mio sindaco questa cosa non non interessa in Italia bisogna finirla di evadere questo è poco ma sicuro e per cui io lancio il nostro motto il motto che noi abbiamo fatto nel Comune di Venezia che non è nostro ma però lo attuiamo che è male non fare paura non avere e andiamo avanti su questa strada grazie 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 e prima delle conclusioni di Castelli adesso abbiamo abbiamo questi piccoli comuni abbiamo abbiamo parlato tanto abbiamo Antonio Pagliarulo che è assessore del Comune di San Pietro dal piccolo come si permettetemi buonasera a tutti su questa benedetta lotta è complicato parlare dopo Roma e Venezia comunque un primo appunto me lo lascio fare al testo del dottor Gentile l'ho visto perché l'ho preso oggi ma già guardando la foto a pagina 214 che è la foto che riguarda un tabellone pubblicitario che è la prima cosa che noi su cui abbiamo fatto il primo accertamento su un'azienda che aveva fatto una pubblicità senza essere iscritta senza avere partita IVA è l'emblema di ciò che effettivamente significa fare questo tipo di attività e quindi reputo questo libro sicuramente qualcosa di uno strumento che serve a chi vuole intraprendere questo tipo di attività e sono tanti i comuni che ancora dovranno farlo per iniziare e per completare ciò che nel loro ambito ha una cosa giusta sostanzialmente un rispetto come diceva prima l'assessore di Venezia cioè pagare tutto ovviamente pagare meno equità fiscale è una cosa che ormai non ci possiamo più non possiamo non fare cioè bisogna andare avanti su questa operazione noi come piccoli comuni abbiamo abbiamo avuto ed abbiamo serie difficoltà nella gestione di questo tipo di attività tenete presente io sono il mio comune si chiama San Pietro Altanagro è un comune in provincia di Salerno e faccio parte di quei comuni sotto i 5.000 abitanti cioè il 70% dei comuni italiani difficoltà in che cosa mi sono segnato perché prima il dottor Polito ha individuato perfettamente quello che c'è necessità di cui abbiamo la necessità è quello di una maggiore interlocuzione tra i piccoli comuni e l'agenzia delle entrate e soprattutto far sì che i piccoli comuni si associino cioè che facciano diventare questo servizio un servizio associato cioè far partire un comune di 1.500 abitanti con una sola risorsa all'interno e che faccia questa attività è qualcosa di sinceramente di impensabile tenete presente che noi le prime esperienze che abbiamo avute le abbiamo avute anche noi perché noi la mia prima consigliatura e questo anche qui confermo quanto detto dal dottor Gentile dell'assessore del bilancio di Venezia io sono stato il secondo eletto mi permetto nella prima consigliatura nella seconda sono stato il primo eletto e io nel 2010 ho attuato questa politica però già nelle prime risorse che abbiamo avuto abbiamo ho preso quei soldi che erano pochi qualcosa sopra 1.000 euro non lo ricordo bene e le abbiamo dati le abbiamo dati di gestione non per maggiore spesa ma le abbiamo destinati alle famiglie sopra i 5.000 abitanti per la riduzione della tasse di rifiuti sopra più di 5 persone nel nucleo familiare ed è stato risvolto positivo cioè utilizzare per ridurre la pressione fiscale le risorse che riusciamo a prendere dall'evasione non per fare maggiore spesa ma destinarle ovviamente alle persone diciamo a ridurre la pressione fiscale quindi ritengo qualcosa di ovviamente di importante la questione legata a una maggiore collaborazione con l'agenzia proprio in termini di risorse umane cioè la questione del tra io sono siamo della campagna la campagna non so se il dottore Centini prima ha fatto vedere ma noi abbiamo avuto un calo drastico dal 2012 al 2015 siamo scesi cioè mentre nel 2012 ricordo perché eravamo anche noi uno dei comuni che abbiamo nel 2012 diciamo facevamo parte di quei numeri successivamente siamo calati pure noi ad un certo punto c'è stato un calo drastico cioè proprio una una discesa e sinceramente non sappiamo perché io ho dato mi sono dato la spiegazione che nel 2012 l'agenzia dell'entrata era molto vicino a noi abbiamo fatto dei corsi di formazione sono stati fatti dei corsi di formazione l'agenzia era molto più vicina al territorio soprattutto alle aree interne di quel territorio perché noi noi che facciamo parte delle cosiddette aree interne abbiamo proprio difficoltà a decidere diciamo rispetto a Salerno piuttosto rispetto a Napoli quindi una maggiore collaborazione delle agenze dell'entrata e soprattutto che si faccia in modo che questo servizio diventi un servizio associato noi abbiamo avuto l'obbligo è stato di nuovo rinviato dal governo dall'ultimo governo il termine diciamo per associare i servizi però sostanzialmente io reputo fondamentale che se si vuole fare se si vuole se realmente si voglia fare qualcosa si vuole fare qualcosa su questo tipo di attività è necessario per il comune sotto i 3.000 sotto i 5.000 questa lo diciamo se potrebbe essere una scelta da valutare fare una unione di servizi o quantomeno un'unione diciamo un'associazione di servizi perché reputo questo è qualcosa di fondamentale perché altrimenti non riusciamo ad andare avanti la gestione io sono oltre ad essere l'assessore a bilancio nei piccoli comuni sono anche operatore io sono stato anche per un certo periodo sapete bene sotto i piccoli comuni si può essere anche responsabile d'aria noi in un certo punto abbiamo avuto la mancanza della ragioniera ho fatto anche responsabile d'aria economica finanziaria e quindi dei tributi la necessità di avere di colloquiare con gli altri enti intorno con tutti quanti gli altri comuni con l'agenzia delle entrate con la guardia di finanza diventa fondamentale partire unicamente con non per timore qua non si tratta di avere paura è una questione proprio di gestione del fenomeno è una questione complicata perché nei piccoli comuni non abbiamo nemmeno non abbiamo la possibilità da soli di poter procedere su questo tipo di attività noi lo stiamo portando avanti avevo già chiesto io lo richiederò sia a Lanci che diciamo sia a Lanci che a Lifes di farsi portavoce su questa iniziativa cioè di quella di proporre qualcosa del genere io ho sentito prima a Bergamo loro l'hanno fatta ho visto che hanno fatto un'associazione però non nel modo diciamo poi per effettivamente farla diventare qualcosa di operativo perché rispetto a come sono i piccoli comuni perché l'esigenza dei piccoli comuni è quella di avere varie figure ognuna che si occupi di un determinato settore questo è il mio parere perché noi gli uffici li abbiamo messi insieme cioè per fare questo tipo di attività ci vuole l'ufficio Anagrafo l'ufficio Commercio l'ufficio Tecchi il nuovo ufficio di Buti soprattutto ci vuole la Polizia Municipale che sta sul territorio e la Polizia Municipale è quell'ufficio che sostanzialmente ha la conoscenza totale di ciò che avviene il fenomeno potrebbe essere il fenomeno dell'evasione e quindi torno a ripetere è una questione legata non tanto alla volontà perché la volontà politica c'è è complicato forse farla digerire a tutti ma vedo che più passa il tempo più gli amministratori i miei colleghi dei comuni piccoli iniziano a capire quando è fondamentale andare su questo settore e incidere anche su questo settore quindi non vedo difficoltà su questo però vedo la difficoltà sul fatto che il servizio deve essere un servizio che si deve unire l'altra cosa e poi termine pure io ho visto vista l'ora la necessità noi abbiamo San Pietro definito tra i nostri comuni di quella zona un comune virtuoso dell'ambito dell'accertamento dei tributi oggi e questo mi leggo al bilancio di prima la nostra necessità è relativa alla riscossione dei tributi la grossa difficoltà che ha oggi a noi oggi gli enti oltre al fatto dell'accertamento perché noi la banca dati l'abbiamo pulita abbiamo fatto una banca data unica all'interno della quale c'è una base dati la chiamiamo proprio BDU una banca dati unificata ogni ufficio prende i dati da una sola banca dati quindi una volta che è iscritto collegato al Sietel quindi collina Saia è validato il contribuente ogni ufficio attinge sempre da quella banca dati quindi non abbiamo più duplicazioni non abbiamo duplicazioni di persone non abbiamo più duplicazioni di immobili quindi sostanzialmente siamo arrivati non voglio dire al 100% ma siamo vicini come pulizia come cosiddetta bonifica dati abbiamo invece oggi la difficoltà non è l'argomento di oggi ma l'argomento quello che su cui abbiamo grosse difficoltà e mi rivolgo pure all'assessore bilancio del comune di Roma che faceva parte liquidale oggi la nostra difficoltà più grossa è quella di incassare i soldi cioè l'incasso di introitare ciò che accertiamo ma il dato l'abbiamo visto anche nelle slide prima prodotte dal dottor Gentile su 300 non ricordo quanti milioni di euro abbiamo incassato o meglio su 193 mila euro abbiamo incassato la metà anche se molti sono frutto di rateizzazioni il problema dell'incasso diventa complicato io vi ringrazio e grazie 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 assessore conclusioni a Guido perché il senato continua ad ospitarci ma rischiamo di rimanere esatto e quindi per essere all'altezza dell'ospitalità del senato cinque frasi la prima oggi abbiamo parlato di un modello positivo di relazione tra Stato e autonomia locale i comuni sono soggetti necessari alle politiche pubbliche di questo paese perché sono soggetti che assicurano una intermediazione positiva disfarsene comprire l'autonomia non è un piacere che si fa al sistema paese seconda riflessione è importante che questo modello positivo di relazione Stato autonomia sia capitato in senato ringrazio il dottor Loiero a margine di un protocollo che ha una finalità precisa quella di cooperare si è detto molto si è usato molto questo verbo perché l'arsenale di conoscenze di chi esercita funzioni pubbliche nelle assemblee parlamentari possa conoscere bene il mondo dei comuni perché è un mondo che è eterogeneo complesso e che ha subito stress tali da rendere necessarie queste forme di collaborazione per la quale ringrazio il senato e il dottore al di là delle premialità i comuni che partecipano a queste attività sviluppano abilità specifiche e assolutamente preziose anche ove non ci fosse la premialità dovremmo addestrarci a formare all'interno dei nostri comuni una cultura del dato una cultura improntata alla circolarità delle informazioni fra servizi del comune perché chissà e chi frequenta comunità che è uno dei temi e anche si è detto la cooperazione interistituzionale ecco questa palestra faticosa di cui ci parlava Antonino Gentile è in sé un valore positivo ed è un'abitudine sana che ci consente anche come diceva prima l'assessore di San Pietro di sviluppare una capacità di realizzare le nostre entrate più sfidanti più performanti quarta riflessione non è una variabile secondaria la capacità di rapportarsi in maniera positiva e proficua con i soggetti che rappresentano lo Stato l'Agenzia delle Entrate ha Antonino Gentile e ha anche altri funzionari che legittimamente magari non hanno lo stesso senso spiccato della collaborazione nessuno se ne deve avere a male c'è una risposta eterogenea quindi dobbiamo fare in modo che per avere contabilità migliori e più significative si sviluppi proprio una capacità di relazione sempre più improntata a quella complianza che in questo caso è fra Stato e comuni lo Stato dispone di un capitale di risorse umane nelle proprie derivazioni periferiche preziosissimo è una storia che dobbiamo riprendere a configurare perché sono valore pubblico non solo nella giudizia delle entrate di cui territori potrebbero aver bisogno per migliorare complessivamente la propria azione amministrativa per ultima riflessione ANCI IFEL crede profondamente in questo sistema stiamo attivando anche ulteriori protocolli finalizzati anche lo si è detto e lo ripeto a fornire agli operatori comunali modelli di software semplici e che siano capaci di rendere virale questo sistema di sovrapposizione del dato che può essere sembrare anche banale ma in questo momento i software anti-evasione li stiamo diffondendo con Invitalia e con il Dipartimento degli Affari Regionali in maniera tale che concretamente anche lo strumento possa creare cultura nell'utilizzo di questi meccanismi semplici ma tra virgolette micidiali mi verrebbe da dire ma c'è Andrea Ferri che dopo si esalterebbe visto che lui viene dalle tasse della riscossione l'ultima cosa e concludo lo dicevo un po' provocatoriamente all'inizio l'autonomia e la ricchezza di questo paese però questi risultati importanti e significativi sono stati realizzati non solo nel frangente storico in cui lo stress finanziario a cui siamo stati sottoposti è stato il massimo nella storia repubblicana ma sono stati realizzati nel momento in cui l'autonomia ordinamentale ha inflitto limitazioni profonde significative anche nella possibilità di organizzare i processi e il personale per poter raggiungere risultati migliori è necessario quindi che alcuni mantra governativi riducano la loro capacità di limitare la nostra azione amministrativa mi riferisco alla possibilità di utilizzare il salario accessorio per questo genere di attività la possibilità di liberare progetti di produttività per raggiungere questi obiettivi mi riferisco al turnover che comunque nella versione che abbiamo conosciuto fino adesso ha limitato le capacità di reclutamento di personale che comunque è necessario per poter raggiungere certi standing di livelli in una parola io non penso di dire una bestemmia se mi arrischio anche a sostenere che queste funzioni possono essere anche funzioni obbligatorie così superiamo anche la questione del sindaco che ha paura del contribuente è una funzione che appartiene al sistema paese è una funzione che dobbiamo comunque esercitare per via della esigenza di adeguare le nostre performance a quello che chiede la nuova contabilità che ci valuta per la capacità di riscossione e non per la capacità di accertamento salva a san dir che se questo è il mondo in cui stiamo vivendo non vedo perché si possa come dire cooperare anche superando alcuni come dire colonne d'ercole come quello di chi rimette solo a una valutazione discrezionale esercizio di attività invece che ha un obiettivo intrinseco valore pubblico grazie a tutti e grazie soprattutto a Rito per voi grazie grazie dell'attenzione buona serata grazie a tutti grazie a tutti